Le rune sono un antico sistema di scrittura, usato dalle popolazioni germaniche nel nord Europa. Dunque si tratta di un vero e proprio insieme di lettere dell'alfabeto germanico, nonché di una delle più antiche forme di scrittura, che pare derivare direttamente dal nostrano alfabeto etrusco. Le prime rune si possono datare attorno al primo o secondo secolo d.C. e furono usate dalle tribù germaniche che vivevano a sud-est della Scandinavia, inizialmente solo per brevi iscrizioni, quali nomi, numeri, iniziali o altre abbreviazioni. Successivamente furono usate per messaggi più elaborati e si diffusero in tutta la Scandinavia e nel resto d'Europa, soprattutto a seguito e grazie agli spostamenti e conquiste delle popolazioni germaniche. Dunque le rune furono usate in tutto il nostro continente, anche se le tracce runiche più antiche sono reperibili appunto soltanto nelle regioni nordiche. Questo perché, con l'avvento del cristianesimo nelle regioni europee meridionali, quelle del nord Europa ebbero più tempo per poter mantenere e tramandare intatte le loro tradizioni. Infatti, con la diffusione del cristianesimo, le rune furono associate al paganesimo e a forme di magia e stregoneria da bandire. Nell'autunno del 2021 è stata scoperta la più antica iscrizione runica su pietra del mondo. La pietra è stata scoperta in una necropoli nei pressi del lago Tirifjorden durante uno scavo archeologico eseguito dal Museo di Storia Culturale. In una delle tombe, gli archeologi del museo hanno scoperto una pietra runica con diverse iscrizioni. Le ossa bruciate rivelano che le rune furono incise sulla pietra tra l'anno 1 e il 250 d.C. Su questa pietra, chiamata pietra di Sfingeröd, vi è quasi certamente inciso il nome della persona sepolta. Iscrizioni runiche che, convertite in caratteri latini, formano la scritta Idiberug. Le rune vennero scolpite principalmente inizialmente nel legno, nel metallo e appunto nella pietra, incise su armi e scudi di guerrieri per marchiarli, ma anche su gioielli, attrezzi, monumenti in pietra, tombe, ossa e pergamene di pelle animale. Esse furono usate soprattutto per permettere alle persone di comunicare messaggi segreti o comunque privati. Le prime incisioni erano composte sia da linee semplici e dritte che da elementi irregolari e intricati. La loro scrittura non era inoltre inizialmente da sinistra a destra, bensì verticalmente, dall'alto verso il basso. La prima vera organizzazione alfabetica delle rune si ebbe dunque attorno al secondo secolo dopo Cristo. Il noto footarch antico, così chiamato dai fonemi delle prime sei rune. Esso consiste in ventiquattro famosissime rune, spesso divise in tre gruppi o het di otto rune ciascuno e rimase in uso fino all'ottavo secolo dopo Cristo. Successivamente si diffuse il footarch recente che risultava ridotto nel numero di rune, appunto soltanto sedici, proprio per semplificarne la scrittura. Esso rimase in uso fin verso l'undicesimo secolo dopo Cristo. Da questo poi ne nacquero altre varianti che attraversarono i secoli successivi, lasciando intatto fino ai giorni nostri il magico fascino di questo antico alfabeto segnico. Una ulteriore variante del footarch antico fu il footarch che fu utilizzato dagli anglosassoni e dai frisoni per scrivere in antico inglese ed antico frisone a partire dal quarto quinto secolo dopo Cristo. Esso consisteva inizialmente in ben ventinove rune, per poi aggiungerne addirittura di altre. Ma le rune non furono solo un sistema di scrittura, elementi di comunicazione antica, bensì anche un solenne sistema di divinazione, che veniva usato per ricevere messaggi dalle divinità, per lanciare maledizioni o benedizioni, per ricevere utili informazioni e dettagli sia sugli altri che su se stessi, per ricevere saggi consigli e come guida in momenti di importante decisionalità, per creare potenti talismani e amuleti per persone ed ambienti. L'origine etimologica della parola rune si pensa infatti sia da ricercare sia nel sostantivo norreno ron, che vuol dire appunto mistero, segreto, sia nel termine protogermanico rono, che vuol dire appunto lettera e scrittura. Da ciò se ne deduce appunto il significato completo di messaggio segreto, misterioso, lievemente proferito e nascostamente sussurrato. E a conferma di ciò, in lingua tedesca, il verbo raunen significa proprio bisbigliare, mormorare, sussurrare. In ambito magico dunque, le rune erano usate per predire il futuro, evocare i morti e fornire protezione a chi le indossasse. Esse servivano infatti anche per lanciare incantesimi e se ne ricorda in una incisione il consiglio di scriverle su un pezzo di stoffa di lino da appendere al collo di un giovane. Le rune ci permettono di ricevere inoltre messaggi e buone nuove dalle entità ultraterrene e venivano usate anche come elemento protettivo della propria abitazione. Infatti per questo motivo venivano incise su legno, generalmente sulle porte d'ingresso. Le risposte che forniscono e fornivano nella divinazione erano e sono spesso incredibilmente precise e disarmanti. Ed il loro utilizzo risulta molto versatile, infatti gli ambiti che si possono indagare con esse sono ovviamente molteplici, sentimentale, professionale, economico, familiare e così via. Questo spiega il motivo per cui sono ed erano molto apprezzate tra i neopagani, generalmente wiccan, che le vedevano e vedono come potenti simboli magici e spirituali. Le pietre runiche sono spesso state ritrovate infatti in luoghi di sepoltura ai mistici, sottolineandoci come fossero usate per commemorare i morti o per ricevere messaggi anche da essi. L'uso delle rune come talismani, i cosiddetti talismani runici, consistevano spesso in rune incise su un dente, fatto di legno o corteccia o pietra o metallo o stoffa o carta, generalmente di piccole dimensioni, per essere appunto indossato o al collo o come braccialetto. Raramente comunque superava i 2,5 centimetri, in modo da poter essere nascosto e protetto facilmente da occhi indiscreti e malvagi. La magia runica era dunque usata per il bene o per il male, per proteggersi da avversari o per uccidere avversari. La scelta sta in chi le usa. Per quanto riguarda invece l'origine leggendaria delle profetiche rune, a darci spiegazione di ciò è Lava Mal, il discorso dell'Eccelso o la canzone dell'Eccelso, ossia la seconda composizione dell'Edda poetica, famosissima raccolta di poemi in Norreno che rappresenta la più importante fonte di informazioni a nostra disposizione sulla mitologia norrena e sulle leggende degli eroi germanici. A parlare in questo lungo monologo è lo stesso Odino che ci narra tra le altre cose la sua scoperta e conoscenza profonda proprio delle rune. E difatti le rune furono abbinate sin da subito alla divinazione perché usate, secondo la mitologia norrena, proprio dalle norme. Inizialmente uniche conoscitrici dei loro significati e del loro utilizzo sia rispetto agli uomini che rispetto agli dèi. Odino ne venne a conoscenza solo dopo grandi sacrifici, tra cui il ferirsi e appendersi sanguinante a testa in giù su un ramo di Yggdrasil per nove giorni e nove notti senza né cibo né aiuti. Odino infatti, il sommo viandante, si imbattè un giorno in un meraviglioso albero di frassino, il celebre Yggdrasil, l'albero cosmico o albero del mondo. Esso era al centro dell'universo e dei suoi nove rami e radici, su cui erano incise nove rune, nascevano nove mondi, tra cui il mondo degli umani, Midgard. Le norne, similari alle parche romane o alle moire greche, giganti dalle fattezze femminili e tessitrici del destino di uomini e dèi, filando e tagliando i fili della loro esistenza, si occupavano anche dell'albero cosmico, innaffiando le sue radici e incidendo su di esso le nove rune. Solo dopo aver sopportato il dolore fisico e la solitudine, egli divenne degno di maneggiare le rune, acquendo la sua già grande saggezza e i suoi enormi poteri. Egli fu da sempre conosciuto infatti per le sue potenti abilità magiche e sciamaniche che gli furono insegnate da Freya. E proprio come le consideravano sia Odino che le norne, le rune non erano soltanto lettere dell'alfabeto, ma anche simboli magici da usare durante riti o interrogazione del futuro. Il segno più o meno stilizzato che forma una runa è dunque una lettera antica, densa di significato magico e leggendario. Ogni runa dunque ha un proprio nome ed un proprio significato che si arricchisce di mitologici richiami e dal sapore della saggezza nordica. Le prime otto rune o Het di Freya sono collegate al mondo quotidiano e familiare dell'uomo, al suo agire pratico e volto al benessere. Non dimentichiamo infatti che Freya è la dea della fertilità e dell'abbondanza, dell'amore e dell'appagamento, della bellezza e della gioia vitale. Esse dunque ci riportano al piano materiale corporeo della vita umana. Ci ricordano i nostri bisogni primari e la nostra libido, i nostri desideri e istinti, le nostre domande e relative risposte. Tutto ciò che concorre alla nostra sopravvivenza fisica, prima ancora che spirituale. La prima runa di cui ci occupiamo è Feho. Questa runa ci invita ad apprezzare la nostra vita, poiché tutto pare andare per il meglio. Questa runa ci parla infatti di prosperità, di denaro, di beni di possesso in grande aumento, di successo professionale e finanziario, di aumento di stipendio o addirittura anche una vincita al gioco. Un regalo che riceverete a breve, ma anche di successi in ambito sentimentale e molte conquiste. Il soggetto ha buona salute, cibo in abbondanza, amore e riconoscimenti. Rappresenta generalmente una persona finanziariamente ed emotivamente ricca. Ma è anche la runa degli inizi, rappresenta la crescita e la fertilità, il comfort, il lusso e la gioia, ottenute ovviamente dopo aver lavorato tanto. Rappresenta anche la generosità e il dividere e condividere i propri beni con gli altri. Rappresenta dunque anche lo spirito di sacrificio, la solidarietà, l'altruismo e la pace interiore. Con questa runa tutti i desideri sono realizzati. In amore ci parla di godimento, di piacevoli momenti amorosi, di libido alle stelle, di insperate ed emozionanti esperienze sentimentali. Nel lavoro si hanno incontri importanti, colloqui gratificanti, nuovi progetti e nuove opportunità professionali. Nella salute si hanno appunto benessere e grande vitalità. Nel caso in cui questa runa si è estratta al rovescio o al contrario, dovremo dare invece la precedenza ad aspetti negativi, ossia può rappresentare un momento della nostra vita in cui dobbiamo combattere e faticare molto per ottenere ciò che ci spetta di diritto, mettendo però anche un freno ai nostri bisogni primordiali alla nostra incipiente libido. In accezione negativa dunque rappresenta disappunto, irritazione, frustrazione, piani cancellati e ben pochi risultati positivi. Ma può anche rappresentare delle inutili lamentele, capricci e spese avventate. La seconda runa di cui ci andiamo ad occupare è Hurus. Rappresenta la forza e il potere, grande energia e una buona forma fisica, visti come simbolo di ricchezza, successo e grande prestigio. Questa runa ci parla di grande concentrazione da parte appunto del soggetto della stesa e dell'estrazione, un soggetto che riesce in qualche modo a utilizzare tutte le proprie strategie per poter crescere da un punto di vista personale ed ottenere anche ottime possibilità in particolar modo da un punto di vista professionale. Questa runa ci porta alla mente una razza di tori europea ormai estinta, gli Uri, fortemente vitali e potenti, indomabili di grande forza bruta. Ecco questa runa ci invita proprio a mantenerci in forma, ad occuparci soprattutto della nostra salute, della nostra forma fisica, del nostro benessere, del nostro corpo, ovviamente assieme alla nostra mente, per cercare il più possibile di migliorarsi. Questa runa ci invita a tenere attivi mente e corpo, anche tramite un duro lavoro, un esercizio fisico costante e vigoroso e uno spirito competitivo e combattivo. Questa runa dunque ci parla di competizione, di sfide, di duro lavoro, ma anche appunto di forza fisica e mentale. Ovviamente queste sfide verranno sicuramente vinte dal soggetto della stesa, che otterrà grande vittoria, ovviamente se agirà con gran coraggio, audacia e temerarietà. Difatti è un momento della vita del soggetto in cui egli deve prendere decisioni importanti e portare a termine un grande cambiamento di vita. In amore ci parla di momenti di grande passione e ardore, ma necessita anche una sorta di discernimento per non confondere appunto il desiderio fisico e la passione con il vero amore. Nel lavoro ci parla di possibilità e progresso grazie alle proprie capacità. Nella salute si invita ovviamente il consultante ad evitare lo stress ed eccessiva fatica. In accezione negativa questa runa ci parla di un duro lavoro che non dà frutti, quindi vengono a mancare tutte quelle ricompense che il soggetto meriterebbe e si aspetterebbe. Abbiamo appunto un consultante che non ha particolarmente energia, travolto da stanchezza e anche apatia. Ma ci parla anche di un individuo che tende a sottomettere gli altri con rigida dominazione, prepotenza e scarsa comprensione. L'eccesso di potere acquisito infatti può portare a perdere amicizie o a distruggere anche relazioni d'amore. La terza runa di cui ci occupiamo è Thorisaz, è la runa di Thor, è la runa della protezione. Quando viene estratta questa runa evidentemente il soggetto della stesa si troverà a dover difendere, se stesso o una persona cara e quindi si troverà a dover sfoderare tutto il proprio coraggio in situazioni anche fortemente sfavorevoli. Dovrà dunque mostrare resistenza e grande tenacia. Questa runa invita comunque il consultante a difendersi, senza però ovviamente sacrificare il rispetto nei confronti degli altri. È la runa appunto anche dell'autocontrollo e dell'introspezione che insegna come resistere alle situazioni avverse o anche alle tentazioni che altrimenti ci comprometterebbero. È una sorta di scudo questa runa che blocca tutti i intenzionati dal farci del male. È una guardia alta contro le forze oscure che possono provare a distruggere il soggetto. Di conseguenza solitamente questa runa viene utilizzata appunto come amuleto o porta fortuna. L'individuo sarà dunque chiamato a ristabilire i propri confini, riflettendo sul proprio passato e anche sul proprio presente. Il soggetto dovrà essere il più obiettivo possibile e fare una sorta di introspezione che permetta anche magari di non ingigantire i problemi e i nemici. È necessario dunque non giungere mai a conclusioni affrettate. In amore questa runa invita ad essere cauti nell'esprimere i propri sentimenti cercando di non confondere amore e passione, per non ferire un'altra persona rischiando quindi di illuderla. Nel lavoro bisogna prestare attenzione a non essere abbagliati da un falso successo o da un falso collaboratore, cercando di valutare bene i propri limiti. Nella salute non ci si sente molto bene e dunque necessario non eccedere. In accezione negativa questa runa invita ad essere prudenti nell'agire per risolvere un problema. Non ci si deve intestardire ciecamente altrimenti si farà del male a qualcuno o si peggiorerà la propria situazione. bensì bisogna agire con cautela senza affrettare i tempi perché tutto si deve risolvere per tempo. Questa runa è comunque una delle più potenti che viene appunto utilizzata come vi ho detto poco fa anche come un amuleto, un portafortuna, un talismano ma può essere anche usata accanto ad altre rune per aumentarne l'efficacia. La quarta runa di cui ci occupiamo è Ansuz che è la runa di Odino e può indicare grande positività, saggezza, illuminazione, razionalità ma anche grandi capacità dialogiche e scambio proficuo di opinioni. Rappresenta un messaggio che il consultante riceverà e che lo ispirerà particolarmente. Un consiglio, una saggia consulenza. Il soggetto è in cerca di informazioni di conoscenza che riceverà da più parti se noterà ogni segnale ad esso indirizzato. È una runa che porta a messaggi, messaggi dagli dèi e anche da Odino stesso ma anche di tutte le persone che ci circondano, amici, parenti, conoscenti, colleghi. È una runa usata per incoraggiare anche l'invio di messaggi nel caso in cui il consultante sia indeciso se scrivere o meno a qualcuno. Questa runa può essere usata anch'essa come una sorta di talismano, come una connessione alle proprie guide spirituali, ad esseri ultraterreni o a parenti che ci hanno dolorosamente lasciato e che non ci sono più. Quando viene estratta questa runa comunque il soggetto conoscerà molte persone che lo aiuteranno ad evolvere e a risolvere tutti i propri problemi. In accezione negativa però ci invita all'attenzione nei confronti proprio di chi può mentire o raggirare attraverso delle false comunicazioni. Invita a non scivolare in un falso senso di sicurezza e invita il soggetto a prepararsi anche ad eventuali inganni e menzogne. Oppure il soggetto che deve imparare ad essere meno arrogante che deve ascoltare anche i consigli degli altri, non disprezzarli, deve essere più umile poiché non si può sapere tutto e ogni tanto un buon consiglio fa bene a chiunque. In amore ci parla di riconsiderare gli errori del passato legati in particolar modo a delle cattive comunicazioni in modo da poter evitare di ripeterli. Anche nel lavoro in ambito professionale ci parla di colloqui di comunicazioni, di avanzamenti, di carriera e anche di viaggi a cui però ovviamente il consultante dovrà sempre prestare attenzione per evitare qualche passo falso a causa di qualche furbetto di troppo. Nella salute ci parla di risparmiare energie per poter ovviamente vivere un futuro di gran benessere. La quinta runa di cui ci occupiamo è Raido. Questa è una runa che amo particolarmente perché rappresenta il cambiamento, rappresenta anche delle semplici modifiche nella nostra vita quotidiana ma può rappresentare anche enormi cambiamenti, viaggi, spostamenti, inaspettati ma comunque sempre proficui. Il cambiamento dunque può essere radicale come un fiume in piena può spazzare via tutto in maniera anche drastica al punto che nulla sarà uguale a prima. Qualsiasi problema che assillava il consultante verrà finalmente risolto e anche in tempi brevi arriveranno i risultati tanto attesi e insperati e anche delle ottime notizie sempre sotto forma di sorprese. Il cambiamento che può arrivare potrebbe anche riguardare ad esempio un cambiamento nel come gli altri ci vedano o nell'immagine che gli altri possano avere di noi o nell'immagine che noi possiamo avere di noi stessi. Per questo motivo questa runa ci invita a dedicarci a noi stessi, all'esplorazione dell'ignoto, di quella parte più preziosa e profonda di noi stessi che evidentemente sino ad ora è rimasta inascoltata. E tutto questo affinché questo grande cambiamento possa avvenire come un grande momento, momento fondamentale e positivo nella vita di ciascuno di noi, come una tappa fondamentale per la conoscenza di sé e di ciò che ovviamente può creare benessere a noi stessi. Il viaggio in questo caso dunque è visto sia in senso reale, pratico e fattuale ma anche come un viaggio spirituale, come un momento di autoaffermazione e di consapevolezza. Questa runa dunque incoraggia ad intraprendere un viaggio di scoperta nel mondo o nella propria mente, ci spinge fuori dalla nostra zona di comfort, da quei momenti di apatia che non ci fanno bene. Questa runa dunque ci ricorda che ogni cambiamento, che ogni viaggio è necessario nella nostra vita per evolvere, ma richiede forza e coraggio per poter affrontare tutti gli ostacoli. Nel caso in cui questa runa venga estratta permette al consultante di prepararsi a qualsiasi grande cambiamento, perché potrebbe non essere pronto. Ci permette di prepararci mentalmente ma anche operativamente a quel grande mutamento che sarà probabilmente faticoso e impegnativo, ma certamente benefico. In amore si vivranno momenti eccitanti e molto passionali, con pieno soddisfacimento dei propri desideri. Nel lavoro indica il raggiungimento di importanti obiettivi professionali e nella salute ci invita a fare passeggiate all'aria aperta, yoga, esercizi per la propria forma fisica, comunque a muoversi ed anche ad effettuare qualche bel viaggio rilassante ed istensivo. Ovviamente però anche questa runa ha una propria accezione negativa, che appunto ci ricorda quanto il cambiamento possa essere comunque faticoso, doloroso e il viaggio pericoloso. I momenti saranno piuttosto difficili e quindi invita il consultante a guardarsi attorno e anche indietro nel passato per capire che cosa stia bloccando il consultante stesso nel suo viaggio e nei suoi progetti. La sesta runa di cui ci occupiamo è Kenaz. Questa runa rappresenta la luce in tempi bui, è la speranza. Ci ricorda che per farcela dobbiamo lasciarci guidare dalla luce della ragione, della conoscenza e della saggezza, agendo con coraggio e forza anche nelle grandi decisioni, di fronte alle grandi svolte. Si è infatti di fronte ad una scelta quando viene estratta questa runa, una scelta da compiere con appunto estrema maturità, con lungimiranza, con moderazione, senza vecchi pregiudizi, senza ottosità e chiusura mentale. Il consultante si dovrà dunque trovare a scegliere tra per esempio il grande amore e la passione, tra la verità e l'inganno. In amore infatti questa runa ci invita a riflettere prima ad esempio di iniziare una nuova relazione per non illudere con false aspettative da altra persona. Ma anche nel lavoro occorre lungimiranza e saggezza, perché infatti consiglia di fare il passo decisivo solo dopo aver riflettuto sui pro e i contro della situazione. In accezione negativa questa runa indica invece oscurità, isolamento e senso di abbandono. Il soggetto della stesa è incapace di prendere una determinata decisione ed è quindi incapace di portare avanti con coraggio e maturità una determinata progettualità, ma può rappresentare anche, sempre in accezione negativa, qualcosa di terminato, finito, per esempio un'amicizia o una relazione. La settima runa di cui ci occupiamo di questo primo gruppo è appunto Gebo. Questa è una runa molto positiva perché rappresenta l'amicizia, la generosità, la buona volontà nel mantenere intatti e solidi alcuni rapporti, scambi fruttuosi, negoziazioni ottime, prosperità e doni. Questa runa ci invita anche ad essere generosi perché solo così verremo veramente ripagati dagli altri con il loro aiuto, i loro doni e il loro amore. Questa runa una volta appunto estratta rappresenta un cambiamento sempre molto positivo nella vita del consultante o in quella delle persone che appunto lo circondano. È segno che tutte le cose andranno sicuramente per il meglio e anche in breve tempo. Può inoltre rappresentare la guarigione da per esempio una malattia o un periodo particolarmente difficile, ma può anche rappresentare appunto una solida relazione, un legame molto importante, un matrimonio o comunque anche ottime condizioni economiche e ovviamente professionali, oltre che appunto sentimenti molto profondi che legano appunto due fidanzati, marito e moglie, due amici, due familiari o anche due colleghi. Questa runa dunque ci parla di speranza, di amore, di desideri che si realizzano, di nuove relazioni che si intraprendono e di un rinnovato entusiasmo nei confronti delle gioie della vita. Al consultante aspettano dunque cambiamenti anche ad esempio nel proprio stile di vita, migliorando il proprio senso di benessere. Le relazioni sociali saranno ovviamente favorite e saranno sicuramente molto più ricche e gratificanti. Inoltre, in particolar modo in amore, ma anche nel lavoro o in amicizia, sta per arrivare una nuova conoscenza che porterà sicuramente a degli ottimi sviluppi. Ma come appunto abbiamo detto, questa runa ci può parlare anche di un vero e proprio regalo, di un dono, di un lascito, che il consultante riceverà ovviamente a breve e che porterà gioia e felicità. Come dunque se ne può dedurre, questa runa non ha mai un significato negativo. In amore ci parla sicuramente di un sentimento corrisposto che prova appunto il consultante per una determinata persona, consultante che è attratto da una persona molto simile a lui, quasi una sorta di anima gemella e che può appunto davvero rappresentare un per sempre, ad esempio una persona da sposare. Nel lavoro ci parla di successo, di frutti che arrivano copiosi dopo ovviamente un duro lavoro e che si raccolgono con altrettante proposte lavorative decisamente insperate e molto significative. Nella salute ci parla ovviamente di benessere e di un ottimo stato psicofisico. Accanto ad altre rune ne amplifica i significati positivi, ne amplifica i poteri, le potenzialità, nel momento in cui appunto venga utilizzata come un amuleto o un talismano. E siamo arrivati così all'ultima runa del primo gruppo, il gruppo appunto delle rune di Freya, Let di Freya. L'ottava runa è appunto Wungu. È una runa che rappresenta la beatitudine, rappresenta gioia, felicità, letizia e ottime notizie. È la creazione di qualcosa di meraviglioso, di significativo, molto profondo per il consultante o per una cara persona. Rappresenta l'iniziare ad esempio una relazione d'amore molto importante o anche un'amicizia altrettanto profonda. Rappresenta il raggiungere i propri obiettivi, la piena armonia, il creare delle nuove connessioni, per esempio relazionali o anche commerciali in ambito professionale. Rappresenta la guarigione dopo ad esempio un periodo di grandi sacrifici, un periodo molto avverso. Rappresenta una ritrovata allegria, una pace interiore, uno spirito ed un corpo entrambi sereni. Rappresenta l'amore e anche la fertilità. È la runa dunque della vittoria, della felicità, del pieno successo ottenuto ovviamente dopo tante fatiche. È dunque anch'essa una runa molto potente che in amore indica momenti felici in arrivo con una persona che sicuramente ricambierà i nostri sentimenti. Se si è già in coppia il rapporto si rafforzerà. Se si è single e ovviamente si vuole trovare la persona giusta ebbene si potrebbe proprio incontrare la propria anima gemella. Nel lavoro ci saranno dei cambiamenti ovviamente molto importanti, molto positivi che richiederanno anche una certa dose di rischio per esempio nel cambiare completamente la propria sede di lavoro oppure addirittura professione. Nella salute ci si sentirà molto bene, molto forti, pieni di energia anche se ovviamente ci si dovrà concedere un po' di riposo per non rischiare di esagerare. Questa è una runa fondamentalmente molto positiva ma può anche, caso venga appunto estratta al rovescio o comunque in posizione negativa, può indicare per esempio la fine di una storia con relativa tristezza, la necessità di sbarazzarsi ad esempio di un passato pesante e di tutto ciò che non permette di realizzarsi e di evolvere nel presente, per esempio inganni, rancori, sensi di colpa. Il consultante si dovrà spogliare del vecchio per poter abbracciare le novità del presente. In accezione negativa può rappresentare comunque appunto un consultante che si sente sopraffatto dalle troppe aspettative da parte degli altri ma anche da parte di se stesso, dalle troppe esigenze e dai troppi impegni. Il secondo gruppo di altrettante otto rune o het di Heimdall celebra l'animo umano nelle avversità e le prove che esso è chiamato a sostenere. Esse infatti ci parlano di eventi inevitabili e spesso dolorosi, di cambiamenti drastici e sviluppi ostacolati, di momenti difficili della nostra vita che devono essere affrontati con consapevolezza e saggezza, maturità e discrezione, vegliando con lungimiranza e attenzione sul nostro futuro e sui nostri cari. Ricalcando il ruolo dello stesso Heimdall, potente dio guardiano di Asgard del Bifrost, il celebre ponte arcobaleno che unisce Midgard al regno degli Asi, garantendo ordine al caos, luce alle tenebre. La prima runa di questo secondo gruppo è proprio Agalaz, che è la runa del cambiamento, della trasformazione. Qualcosa viene sempre distrutto quando viene estratta questa runa, per dare però sempre spazio a qualcosa di nuovo. Non ci si deve ostinare e intestardire nel voler lasciare le cose così come stanno, nell'attaccarsi morbosamente alla propria comfort zone, al proprio status quo. Questa runa dunque ci invita ad accettare il cambiamento, ad accettare tutte le novità che arriveranno a breve, tra l'altro, nella nostra vita. Ci parla di un cambiamento drastico, qualcosa di grosso e di profondo, che sta per accadere. Questo potrebbe provocare sicuramente preoccupazione e ansia, perché sicuramente abbandonare qualcosa che si conosce per il nuovo può spaventare. In amore può parlare del chiudersi di una storia, ma per iniziarne una nuova, anche in ambito professionale. Può parlarci di grandi cambiamenti, per esempio potrebbe essere giunto il momento di lasciare un determinato posto di lavoro per poter intraprendere una nuova carriera. Per quanto riguarda la salute ci parla della necessità comunque di confidarsi, di aprirsi, di liberarsi anche da dei pesi interiori, cercando comunque una persona saggia che possa ascoltarci e consigliarci al meglio. Nel caso in cui questa runa venga estratta in accezione negativa, può rappresentare la difficoltà del consultante nel lasciarsi andare ad un grande cambiamento. Per esempio, in amore, può rappresentare la paura di cambiare partner e quindi il condannarsi all'infericità. In ambito professionale potrebbe rappresentare appunto i timori nel lasciare il proprio ormai abituale luogo di lavoro per paura appunto di affrontare un grande cambiamento, condannandosi però ad una vita professionale, mediocre e ad una scarsa carriera. Questa seconda runa di questo secondo gruppo è Nauteds, simboleggia limitazioni, scarsità di risorse, fardelli pesanti che necessitano da parte del consultante molta pazienza e capacità di sopportazione. Nelle limitazioni e afflizioni l'individuo può infatti dimostrare tutto il suo valore, tutto il suo coraggio e può apprendere anche molto su come gestire il proprio futuro ma anche su se stesso. Può diventare ancora più forte, ancora più coraggioso e soprattutto deve cercare il più possibile di dominare l'impulsività, l'istinto e la collera. In amore il consultante potrebbe vivere momenti difficili con il proprio partner oppure se non si hanno legami si sta per iniziare evidentemente una storia che potrebbe dare problemi. È consigliabile dunque valutare bene i sentimenti delle altre persone e del proprio eventuale futuro partner ma anche i propri sentimenti. In ambito professionale e lavorativo è un periodo molto intenso di nuove responsabilità che però affaticano il consultante che necessita di grande applicazione, troppi compiti che gli vengono affidati e quindi anche altrettanto stress. Nella salute ci si sente stanchi e quindi si ha il bisogno di riposare e di svagarsi perciò bisogna staccare un po' dai problemi anche semplicemente mentalmente per poter prendere fiato. Questa terza runa di questo secondo gruppo è Isa. Simboleggia gli ostacoli della vita, un periodo in cui le cose non sembrano andare avanti, un momento di stasi, di stagnazione, ma questa runa ci ricorda che gli imprevisti della vita ci sono e ci saranno sempre, che d'accordo ci costringono anche ad una sorta di letargo appunto ad una stasi, ma che dopo comunque questo momento di immobilismo e di calma piatta sicuramente si sapranno affrontare al meglio tutte le situazioni perché magari ci si conoscerà meglio, perché magari si conosceranno meglio i propri sentimenti. Dunque i ritardi e i blocchi, l'isolamento, tutto questo può essere anche positivo perché può essere anche visto come un momento di riflessione. Una volta poi superato questo momento si può andare avanti a passi più spediti, più tranquilli e anche più consapevoli. Col disgelo infatti tutto si rimette in moto, ma ogni cosa ha il suo tempo, ha il suo momento. Può sembrare che non stia accadendo nulla, invece è solo un momento di stasi, di riflessione fondamentale per la nostra vita. Qualcosa si sta comunque sviluppando dentro di noi, un'idea, un nuovo progetto, un cambiamento, un nuovo sentimento, ma è necessario pensarci su, riguardando magari anche nel proprio passato. Non bisogna dunque forzare gli eventi, ma agire seguendo il flusso degli eventi con saggezza e prudenza. In amore infatti ci si sentirà più disponibili nei confronti degli altri, nei confronti di una relazione, di un sentimento. Si accetteranno magari consigli, inviti, gioia e momenti di festività. Il consultante avrà la possibilità di conoscere più persone per potersi divertire e magari anche innamorare. Tutto questo dopo però appunto un periodo di fermo, di riflessione, che però abbiamo detto ha solo giovato al consultante per permettergli di capire realmente cosa vuole e cosa non vuole, cosa fa bene per lui e cosa non gli fa bene. In ambito professionale ci saranno appunto novità, gratificazioni, anche economiche importanti, ma anche in questo caso a seguito e successivamente ad un momento di presa di coscienza, consapevolezza dei propri limiti, ma anche delle proprie potenzialità. Ed arriviamo a Yera, quest'altra runa dal significato meraviglioso. Questa è una runa che appunto appartiene come le precedenti al secondo gruppo di rune e ci ricorda che anche se apparentemente affrontiamo momenti di difficoltà dove nulla pare muoversi, in realtà arriverà sempre un momento di grande cambiamento che metterà fine ad un momento di stasi, si chiuderà un ciclo per ovviamente riaprirne un altro. Dunque questa meravigliosa runa ci ricorda di non mollare mai, perché alla fine verremo ripagati di ogni sacrificio, del nostro duro lavoro, della nostra attesa, della nostra pazienza, del nostro coraggio. E questa runa ci incoraggia a resistere con temerarietà, con forza d'animo, di fronte a qualsiasi difficoltà, poiché ciò che abbiamo seminato andremo a raccogliere. Può essere per esempio una gravidanza a lungo desiderata, oppure una storia d'amore a lungo sognata o un posto di lavoro a lungo desiderato. Questa runa ci aiuta a comprendere il flusso naturale della vita, che tutto accade per una ragione e che la vita è comunque un ciclo e che come tale va vissuta. Questa runa dunque ci invita alla pazienza e alla persistenza, poiché le ricompense saranno ben grandi anche rispetto alle nostre aspettative. Questa runa ci ricorda che tutti gli sforzi, prima o poi, vengono sempre ripagati, a tempo debito, senza forzare le cose, senza affrettare i tempi. Ci parla anche di un ciclo che termina per permettere ad un altro ciclo di iniziare, quindi quando qualcosa finisce c'è anche qualcos'altro che inizia. In amore ad esempio ci parla della fine di un rapporto di coppia per dare vita ad un altro rapporto di coppia migliore del precedente, eccellente, basato magari questa volta su vero amore. In ambito professionale ci parla di grandi riconoscimenti dopo un duro lavoro, ci parla di grande notorietà tra i colleghi, di fama, capacità riconosciute anche dai propri datori di lavoro e può parlare anche di un aumento di stipendio. Ma anche questa runa ha una propria accezione negativa, per esempio, in amore potrebbe avvertire del pericolo che il partner possa desiderare qualcosa in più, perché magari non pienamente soddisfatto. Per quanto riguarda la salute, questa runa ci può parlare di un soggetto che ha speso molte energie in passato per ottenere ciò che è riuscito ad ottenere ora e di conseguenza il consultante può sentirsi comunque stanco. Ma ovviamente questa runa è prevalentemente dal significato fortemente positivo. La quinta runa del secondo gruppo è Hyvads. Questa runa è identificata con l'albero del tasso che è tossico per tutti gli esseri viventi e anche per se stesso, ma sopravvive tuttavia per migliaia di anni come simbolo sempreverde di rinascita. Questa runa infatti ci incoraggia a lasciare andare il passato, ad andare oltre le difficoltà, oltre tutto ciò che ci ha ferito, che ci ha fatto del male, non lasciando che tutto questo ci trascini giù nel baratro del fallimento e della disperazione. Questa runa rappresenta la capacità magica della natura di fare le cose nel miglior modo possibile e con il miglior risultato possibile, nel lungo tempo, in periodi lunghi ma comunque efficaci, tutto a suo tempo. La natura non ha sempre successo immediatamente. Ci sono anche ostacoli e ritardi, ma il processo va avanti lo stesso, così come la nostra vita, ci ricorda questa runa. È necessario dunque non lasciarsi andare alla disperazione, alla collera, alla vendetta, ma saper attendere il momento migliore. La cosa più importante però è riguardare al passato eliminando idee, credenze, stili di vita, comportamenti autolimitanti e dannosi. Poiché solo un cambiamento del genere può renderci più forti, anche se chiaramente può spaventare lo staccarsi da ciò che ci è familiare, da ciò che noi siamo stati, dalle nostre abitudini. Può spaventare non sapere che cosa ci riservi, per esempio una nuova relazione o il cambiare lavoro, cambiare casa, cambiare gruppo amicale, ma è necessario rinnovarsi per imparare anche cose straordinarie, per evolvere, per conoscere nuove persone e nuovi ambienti, per avere anche grandi successi. Nel momento in cui dunque il consultante lascerà andare il passato, avrà davanti a sé una strada libera da ostacoli e piena di gioie. La sesta runa di questo secondo gruppo è Pertrow. Questa è una runa dal significato molto importante, infatti è una runa che io amo molto. Questa runa conduce il consultante al di fuori dell'oscurità, verso la gioia, verso la felicità. Mostra che c'è una via, anche quando sembra che le cose non possano migliorare. Questa runa rappresenta dei segreti, su cui il consultante avrà chiarezza. Porta verità prima che si compiano passi azzardati, cambiamenti irreversibili, scelte immodificabili. Perché questa runa ci ribadisce un concetto per me fondamentale, che il destino non è scritto, bensì è il risultato delle nostre scelte e azioni. Quando esce, viene estratta questa runa, il consultante può vedere con i suoi occhi la verità, può fare ordine nel caos, può avere un nuovo punto di vista, che sarà sicuramente più efficace, cosa che ovviamente lo porterà a fare più attenzione alle sue stesse scelte. Quindi al consultante sarà permesso di arrivare ad un risultato, di sperimentare un nuovo ciclo di vita, ad esempio anche facendo nuove ed allegre conoscenze. In accezione negativa, questa runa significa ricevere una cattiva sorpresa, una spiacevole notizia o fare una spiacevole scoperta. Oppure ci parla di una persona che sta mantenendo un segreto, difficile però da tenere nascosto. Dunque questa runa invita a non divulgare segreti o questioni familiari a nessuno e a non credere a parole e proposte altrui allettanti. Oppure ci può parlare di una persona ossessionata dal passato e dalla visione eccessivamente pessimistica. Oppure ancora ci può parlare di una compagnia dissoluta, troppo chiacchierona, su cui non far affidamento. Ed infine arriviamo alla penultima runa di questo secondo gruppo. Questa appunto è la runa Elhaz. Questa runa simboleggia una madre protettiva che dona sicurezza. Questa runa rappresenta un consultante protetto da energie negative e da avvenimenti nefasti. Il soggetto si sente circondato e protetto dalle persone che lo amano, che lo circondano e potrà beneficiare del loro aiuto. Ma il consultante non sarà aiutato soltanto dalle persone che lo amano, che gli stanno accanto. Perché sarà aiutato anche dal suo stesso intuito, dal suo stesso sesto senso, che lo aiuterà a comprendere gli altri, le loro scelte, le motivazioni ai loro comportamenti e le loro intenzioni nei suoi confronti, specialmente se negative. Queste facoltà permettono dunque al consultante di trovare equilibrio un po' in tutti i campi della propria vita, amore, lavoro, famiglia, evitando appunto piccoli o grandi pericoli, o comunque riuscendo egregiamente ad aggirarli. Dunque questa runa rappresenta l'intuito che aiuta l'individuo ad ottenere ciò che vuole e desidera e a comprendere chi, ad esempio, lo voglia far deviare dal proprio cammino. Quindi grazie al suo stesso senso riuscirà a percepire e neutralizzare pericoli incombenti. Questa runa a volte può anche rappresentare una sorta di angelo protettore, un angelo custode che appunto protegge il consultante. In accezione negativa questa runa indica una persona che sta perdendo tempo, che non ottiene ciò che desidera, che sta sprecando le opportunità che gli si presentano e anche la protezione e gli aiuti di chi gli sta accanto. Le energie negative sono ostacolanti e il soggetto non agisce con cautela e prudenza, ma può anche rappresentare un individuo che aiuta troppo gli altri, facendosi assorbire dai loro stessi problemi, facendosi carico dei loro stessi oneri. Ed infine arriviamo all'ultima runa, Sovilo, l'ultima runa ovviamente del secondo gruppo. Questa è una runa meravigliosa che porta luce in qualsiasi estrazione e ovviamente anche nella vita del consultante, perché presagisce successo in tutti gli ambiti della vita di un individuo. Rappresenta il raggiungimento dei propri obiettivi, la realizzazione dei propri sogni e soprattutto anche un'ottima salute fisica. Il consultante ha grande energia, un'energia adatta a superare ogni prova. Questa runa rappresenta quella motivazione in più che aiuta a portare a termine ogni sforzo. Quindi ci parla di gioia e di prosperità. È anche portatrice di ottima memoria e forza mentale. Il soggetto si sentirà coraggioso, indomito, senza paure. Rappresenta l'intelligenza e la lucidità mentale che ovviamente hanno la meglio rispetto a qualsiasi dubbio o perplessità. È il pensiero rapido in azione. È la fervida creatività che si fa avanti e la forza che permette di attaccare. Il consultante è un individuo con grande volontà e questo lo porterà al trionfo. Riesce a prendere decisioni importanti che magari sino ad ora aveva rimandato. Questa runa ovviamente non ha significati al negativo. Rappresenta l'attacco, la potenza e ovviamente la vittoria che sono i suoi capi saldi come significati primari. È un ottimo momento per il soggetto. In amore ci saranno colpi di fulmine e si susciterà l'attenzione di molte persone. Si vivranno molte avventure e una tra queste sarà particolarmente eccitante e duratura. Nel lavoro ci saranno incontri e colloqui decisamente molto proficui che diventeranno ovviamente ancora più importanti e remunerativi da un punto di vista strettamente economico con l'andare del tempo. Per quanto riguarda la salute è una runa che rappresenta vitalità, spirito di intraprendenza e appunto grande forza fisica. Il terzo ed ultimo gruppo di Otto Rune o Het di Tyr ci mostra l'uomo alle prese non più con i suoi istinti e bisogni primari o con ostacoli, successi e nemici, bensì in situazioni emotivamente complesse e socialmente organizzate quali la nascita di un figlio, il matrimonio, l'alleanza tra pari, le tradizioni familiari e culturali. L'uomo si trova dinnanzi alle opportunità di mettere alla prova la propria maturità e saggezza, dinnanzi a potenti energie che deve saper gestire per poter sancire definitivamente il proprio successo e posto nel mondo. La prima runa di quest'ultimo gruppo è Tivaz. Rappresenta il coraggio, l'audacia e l'onore. Il soggetto ha la forza necessaria per realizzare anche l'inimmaginabile. Intraprende qualcosa con grande abilità, agisce con il coraggio sufficiente per intraprendere il primo passo verso la vittoria. Agisce con ordine, fermezza e perseveranza. Ha un atteggiamento combattivo, giusto, si attiene alla legge e dalle regole. Rappresenta dunque un individuo vittorioso e temerario, resistente alla fatica e voglioso di successo. Un individuo che dovrà affrontare eventi nuovi e nuovi progetti, quali ad esempio cambiare lavoro, cambiare casa, un matrimonio, la nascita di un figlio, trasferirsi all'estero. È la runa dunque dei grandi cambiamenti, ma è anche la runa di chi si batte per i più deboli, per l'assistenza e la difesa dei diritti, quindi per la giustizia. Ma non è solo la runa della giustizia, bensì anche la runa della vendetta. Può essere infatti una runa di rabbia e furore, che se in eccesso può portare a procedimenti legali e conseguenze penali. Al negativo dunque rappresenta eccessiva rabbia, vendetta, rancore, ma anche mancanza di coraggio, di motivazione. Può rappresentare anche tanti ostacoli e difficoltà, insicurezze, paure e scarsa autostima. Viene spesso usata come talismano per aiutare a sconfiggere paure e insicurezze, per sentirsi più forti mentalmente ed energeticamente. La runa percano rappresenta la nascita, il concepimento di un bambino, una gravidanza, piacevoli eventi familiari. Rappresenta l'amore, l'armonia, la fertilità, una vita familiare ottima e appagante, un matrimonio felice. Permette lo sviluppo di idee e progetti, si scelgono nuove strade in ogni campo, ma rappresenta l'amore materno, la protezione e l'attenzione, ma anche i nuovi inizi e la nascita di qualcosa di molto importante e significativo, qualcosa che ancora non è presente nella vita del soggetto. In amore si conoscerà una persona che ci regalerà momenti piacevoli e spensierati. È il momento di fare sfoggio di seduzione e di abbandonarsi all'amore. Questa runa sottolinea l'importanza di una sana sessualità. Nel lavoro rappresenta successo in progetti a lungo anelati. Nella salute si è pieni di energia. Al negativo indica rallentamenti, che ci sono e ci saranno ostacoli che impediscono impediranno il progresso o l'evoluzione oppure può rappresentare una famiglia troppo invadente. La terza runa di questo ultimo gruppo è Hevads la runa dei movimenti inaspettati degli avvenimenti improvvisi delle trasformazioni e dei cambiamenti delle novità rappresenta i viaggi la libertà un viaggio sia fisico che spirituale oppure anche entrambi rappresenta comunque uno spostamento benefico che porterà progresso e circostanze nuove e favorevoli. Nuove persone entreranno a far parte della vostra vita e avranno un ruolo chiave oppure uscirete ancora più forti da un momento di crisi. In accezione negativa però può rilevare degli ostacoli durante ad esempio uno spostamento e in amore richiede prudenza nell'iniziare nuove relazioni o nuove conoscenze nel lavoro di adattarsi a nuove circostanze cambiando proprie abitudini rutinarie e nella salute riposo. Sempre in accezione negativa può anche rappresentare la presenza di qualcuno che si voglia attaccare al carro del vincitore di qualcun altro sfruttandone le potenzialità oppure si deve semplicemente cambiare strada in riferimento alla propria professione o ad una situazione sentimentale invita dunque a conoscere comunque nuove persone e nuovi ambienti consiglia inoltre di non ostinarsi di non incaponirsi prefissandosi mete obiettivamente irraggiungibili la runa Mannas rappresenta l'uomo e la sua intelligenza e la sua capacità di adattarsi in qualsiasi circostanza rappresenta l'uomo nella sua creatività l'uomo che dà senso alla sua vita e segue la propria strada trovando il proprio posto nel mondo questa runa ci ricorda la necessità di trovare terreno comune con quelli che ci circondano di formare alleanze che durino più di un giorno e proprio nel momento in cui viene estratta questa runa il consultante creerà legami molto forti molto più forti che in passato darà alla propria vita una giusta direzione avrà ben chiare le proprie mete e i propri obiettivi e li porterà a termine le raggiungerà tutte in amore viene rafforzato il legame col partner oppure incontrerà una persona che porterà pace e comprensione equilibrio e felicità nel lavoro si è considerati ottimi professionisti e dunque aspetterà grande successo in accezione negativa però il consultante può sentirsi stanco può sentirsi a volte solo e marginato dagli altri può indicare un individuo che ha paura del nuovo chiama troppo la sua routine molto pigro ma può parlarci anche non solo di solitudine bensì anche di scarsa autostima preoccupazioni inerzia il soggetto può avere la necessità di ritrovare se stesso dedicandosi a se stesso allontanandosi dagli altri e dalla vita caotica per riposarsi e rilassarsi prendendosi cura di sé del proprio corpo della propria salute con sport e attività fisica la runa lagos rappresenta la profondità rappresenta gli oceani i fiumi i laghi la pioggia rappresenta il flusso delle acque il movimento dei pensieri dell'intuito degli eventi lo scorrere dell'energia rappresenta la capacità umana di potenziare le proprie abilità psichiche e di scendere nel profondo nel proprio e inconscio è una runa infatti che ci invita a seguire le nostre intuizioni il nostro istinto rappresenta profondi cambiamenti ed evoluzioni interiori e spirituali è una runa che parla di riflessione del guardarsi dentro e quindi di prendere decisioni importanti è una runa dunque che invita a non essere troppo esigenti duri e rigidi né con se stessi né con gli altri non eccedendo nel perfezionismo invita ad essere più flessibili e comprensivi umanamente perché sicuramente un atteggiamento troppo rigido non ripaga mai al negativo infatti questa runa può indicare un blocco di energie o cambiamenti troppo veloci mal progettati può rappresentare una carriera bloccata o una relazione in stallo ma anche appunto il non ascoltare il proprio intuito e quindi permanere in uno stato di stagnazione perché troppo legati ad una eccessiva razionalità in amore invita a lasciarsi andare alle emozioni al provare nuove sensazioni in ambito professionale invita ad uscire da situazioni non appaganti magari cambiando coraggiosamente lavoro o mansione per essere anche gratificati seguendo così le proprie reali aspirazioni le proprie attitudini le proprie capacità e aspettative e migliorando sicuramente anche la propria posizione sociale viene inoltre consigliato al consultante di svolgere attività fisica o momenti di svago a contatto con l'acqua al mare al lago in piscina nuotando o comunque approfittando di tutte le qualità benefiche e salutari dell'acqua ed infine arriviamo alla runa Ingvas che è la runa dell'erotismo della sessualità della potenza maschile del vigore procreativo dell'energia creativa del fuoco della creazione rappresenta la progettualità la voglia di fare di sperimentare di migliorare la propria condizione porta dunque successo buoni raccolti ottimi affari e buona salute il tutto dopo tanti sforzi e ovviamente impegno l'individuo prova un forte desiderio di sperimentare nuove attività nuove conoscenze nuove emozioni rompendo con la routine quotidiana ha dunque nuovi interessi vuole scoprire il nuovo questo in tutti gli ambiti della propria esistenza quindi sia da un punto di vista professionale che soprattutto da un punto di vista sentimentale e fisico rappresenta la forza vitale e la potenza sessuale è nota infatti per essere la runa degli organi genitali riproduttivi maschili dunque rappresenta la fertilità rappresenta una gran curiosità e una forte predisposizione alla novità in amore però consiglia di non gettarsi subito a capofitto in una relazione con una persona nuova seguendo solo gli impulsi e gli istinti sessuali ma bensì di conoscere bene chi si ha davanti a sé quindi attenzione all'impulsività e agli inganni questa runa dunque non ha significati al negativo se non appunto è necessario un po' di prudenza e di sana osservazione nel lavoro ci parla dunque di nuove mansioni di una professionalità in crescita cosa che procurerà guadagni e grandi soddisfazioni ed arriviamo alla penultima runa dagas che è la runa delle opportunità della crescita delle sfide da vincere e vinte è la capacità di superare tutte le difficoltà gli ostacoli anche quelli più insurmontabili anche le sfide che sembrano più impossibili con forza e volontà con saggezza e maturità e con attenta pianificazione rappresenta i traguardi raggiunti la vittoria l'avanzamento anche quando le circostanze sembrano essere sfavorevoli ma solo a patto che si agisca con tenacia e sincerità rappresenta in amore un periodo di felicità accanto a chi amiamo se si è single rappresenta invece l'arrivo di una o più nuove conoscenze è una runa che ci invita ad osare senza farsi bloccare da insicurezze e timori perché la nuova relazione sarà molto appagante nell'ambito professionale rappresenta progresso soprattutto se si è disposti ad apprendere sempre nuove conoscenze per quanto concerne la salute ci parla di benessere generale generalmente questa runa non ha significati al negativo ed infine arriviamo all'ultima runa othila la runa della famiglia dell'ertaggio rappresenta i valori le nostre convenzioni le tradizioni che ci sono state tramandate di generazione in generazione ci parla di chi onora le tradizioni e le lezioni imparate da parenti antenati è importante capire la storia che c'è dietro di noi questa runa ci invita ad apprezzare le nostre radici è importante ripensare al proprio passato per organizzare e programmare il futuro e i cambiamenti che si è pronti a compiere è importante capire che se si vuole il nuovo prima si deve eliminare il vecchio ci si deve confrontare col vecchio e col passato questa runa rappresenta il ritornare alle fondamenta ci chiede di essere fedeli a noi stessi alla nostra famiglia alle nostre tradizioni a ciò che abbiamo appreso questa runa ci induce dunque a non tagliare mai col passato in modo impulsivo e radicale ogni cosa a suo tempo ci invita a non abbandonare mai ciò che abbiamo troppo velocemente per andare verso lo sconosciuto è necessario avere pazienza mai forzare il destino è necessario non perdere mai di vista ciò che è stato da sempre presente nella nostra vita anche se si è pronti al nuovo in amore rappresenta un momento di grande sensualità le proprie capacità attrattive aumenteranno e si conosceranno persone nuove con le quali iniziare relazioni interessanti la runa consiglia dunque di sfruttare appieno questa occasione in ambito professionale si lavorerà con nuovi colleghi o ci saranno importanti novità per quanto riguarda le proprie mansioni in accezione negativa questa runa indica un attrito o comunque discordie familiari un divorzio dispute per quanto riguarda un'eredità causate appunto dalla morte di uno dei membri oppure rappresenta il non essere pronti al nuovo l'essere aggrappati al vecchio alle persone ai beni materiali della vita l'individuo teme i cambiamenti e non sa adattarsi alle varie circostanze le rune dunque sono simboli dalle origini antichissime e fascinose giunte fino a noi per permetterci di avere un'ulteriore chiave di lettura della nostra esistenza e di noi stessi per consentirci di comprendere come muoverci in determinate situazioni traendone consapevolezza e benefici per garantirci una più matura e saggia evoluzione interiore le rune come molti altri metodi divinatori possono esserci d'aiuto poiché possono offrirci un punto di vista differente della situazione indagata in modo che la si possa analizzare da un'altra prospettiva permettendoci di osservare fatti ed eventi da una visione più ampia e dai risvolti inaspettati anche le rune dunque ci riconducono al tanto amato concetto jungiano di archetipi come elementi base della complessità psichica umana le rune infatti proprio come arcani ed oracoli permettono un rapido collegamento tra la nostra interiorità e la nostra realtà esperienziale contribuendo a dare a quest'ultima una spiegazione accurata riconoscendo intuitivamente interpretando il messaggio profondo e dettagliato di cui è portatore ciascun simbolo runico anche nella lettura runica la saggezza interiore e la percezione devono prevalere rispetto a qualsiasi regola imposta l'intuito è fondamentale nel comprendere i loro messaggi e a proposito di regole l'ordine dell'estrazione dei simboli runici è fondamentale e deve essere mantenuto tale sino a fine lettura poiché cambiandone la disposizione se ne modifica totalmente il significato predittivo e di riflessione proprio come accade per arcani ed oracoli inoltre una lettura runica prevede un contatto intimo e profondo con la propria interiorità e le proprie verità deve perciò essere effettuata lontana da occhi indiscreti regola valida identicamente anche per arcani ed oracoli secondo gli antichi druidi inoltre e dunque per uso e tradizione non si devono estrarre rune in luoghi oscuri o privi di luminosità bensì in pieno giorno alla luce del sole quando esso è ben alto nel cielo e soprattutto nel sacro giorno di mercoledì poiché di pertinenza del grande dio odino wednesday ossia il nostrano mercoledì è infatti una moderna contrazione di wodnesdag ossia il giorno di woden equivalente linguistico sassone del norreno odin e del germanico wotan ed infine deve essere buona prassi non utilizzare nella lettura runica predittiva rune rotte scheggiate e incomplete poiché iconograficamente inadatte ad un collegamento intuitivo tra la nostra interiorità ed il simbolismo su di esse rappresentato oppure rune cadute e sparpagliatesi durante l'estrazione ciò che il karma elimina è evidentemente ciò che a noi non serve